Formosa, non ti piace magra? No, magra magra no Tipo top model, non la vuoi? Tu la vuoi in carne praticando? In carne, esatto Dai 25 ai 36 anni Esatto Che sia bionda o mora, per te non ha importanza Non ha importanza Dovrebbe lavorare questa ragazza? Se lavora è meglio, perché io lavoro, cioè guadagno poco Se lavora la ragazza Tu c'è la casa di proprietà? La casa non di proprietà, in affitto In affitto, però abiti da solo C'è un bel lavoro, non ti manca niente Esatto Sei motorizzato, c'è la macchina? No, per il momento la macchina non ce l'ho Perché non ce l'ho solo per comprare la macchina Però praticamente sei motorizzato? Sì, sì, esatto Ti puoi spostare? Sì, sì, esatto Va bene, ascoltami Maurizio Che genere di donna potrebbe conquistarti? Cioè praticamente che cos'è che vai guardando tu in una ragazza per conquistarti? Cioè la prima cosa è il carattere Il carattere? E poi la seconda cosa è il fisico L'aspetto fisico L'aspetto fisico, esatto Naturalmente la prima cosa secondo me è l'aspetto fisico Cioè ti dovrebbe colpire Cioè certamente l'aspetto fisico La prima cosa l'aspetto fisico Dopodiché automaticamente se ti piace E allora va avanti col carattere Esatto Come passi il tempo in una giornata Maurizio? Che fai dopo il lavoro? Dopo il lavoro? Cioè vado a casa Mi faccio una bella doccia Mangio e mi vedo un bel film E poi sette serate che mi andavo da passaggiare Da solo? Da solo Quanto tempo hai che sei single? Io dai cinque anni Da cinque anni? Quindi tu praticamente hai da cinque anni che non frequenti una donna? E come mai Maurizio? La ragazza, io l'avevo una ragazza Siamo stati due anni fidanzati Però ci abbiamo lasciato per motivi di carattere Perché non andiamo bene d'accordo Incompatibilità di carattere Incompatibilità di carattere, esatto E ci abbiamo lasciato Va bene E ti piace ascoltare la musica? La musica, esatto Che genere di musica ascolti? Napoletano Ti piacciono le canzoni napoletane? Esatto Un cantante tuo preferito? Le canzoni quelle di Gianni Celeste Ah sì? Ti piacciono le canzoni di Gianni Celeste? Esatto Perché queste canzoni ci hanno un significato Certo E le canzoni italiane ti piacciono pure? Eh non so Musica della discoteca ne ascolti? Sì 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 Una volta ogni tanto la ascolti? Ogni tanto Qualche canzone della discoteca l'ascolto Qualche canzone anche italiana Ti piace E più di più quella è napoletana Napoletana Ti piace frequentare, non so, le discoteche? No, non so le discoteche Ce le frequentavo prima Secondo ci sono dei caratteri molto nervosi Le discoteche non le... Sei chiuso praticamente? Sì 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 Allora...